Rieccoci con Memeconomics, nuova puntata, vi raccontiamo la finanza, l'economia, la politica, l'attualità attraverso il linguaggio dei meme che realizziamo noi e che raccogliamo anche nel web. Oggi abbiamo fatto una bella raccolta perché ovviamente i temi sono tanti e allora da dove eravamo rimasti rispetto all'ultima puntata? Beh, eravamo rimasti al fatto che siamo tornati in zona rossa, siamo tornati in lockdown esattamente come un anno fa. Oh, non è un lockdown così restrittivo come quello appunto di marzo-aprile 2020, ma comunque siamo ancora a parlare di smart working, di negozi chiusi, di zona rossa e di circolazione delle persone, dei mezzi pubblici e dei trasporti solo se strettamente necessari. E allora riassumiamo questa cosa con il primo meme. Quello che vi mostriamo da parte di TML c'è lo stesso telegiornale da un anno. Sono sicuro che tutti voi avete anche assunto l'espressione di Robert Downey Jr., qui estrapolato da uno dei film degli Avengers e che è virale, insomma, utilizzato spesso nel linguaggio dei meme. Non soltanto, usiamo un altro prodotto TV, diciamo così, diventato virale e amato, insomma, da tutti quanti, insomma, i navigatori, e cioè la casa di papè, la casa di carta, perché, se ci fate caso, i nati a marzo e aprile, compleanno 2020. Compleanno 2021 è la stessa identica cosa. Lo mostro, questi sono sempre gli amici di TML, anche perché mi ci ritrovo dentro anch'io, dato che compio gli anni ad aprile. Beh, insomma, abbiamo tutti l'espressione del professore, amici nati a marzo e amici nati ad aprile, dato che ci facciamo un altro bel compleanno all'insegna del lockdown. Dunque, sembra quasi di sentire di nuovo il vecchio hashtag, che per fortuna nessuno usa più, restate a casa, hashtag rimanete a casa, che poi, insomma, alla lunga si rischia di avere effetti collaterali, a proposito, insomma, di vaccini ed effetti collaterali, come quella che ci mostra quest'altro meme, e cioè questa famiglia ha passato diversi mesi rinchiusa senza particolari problemi. La famiglia di Shining, per chi non l'avesse riconosciuta, per quei pochi che non l'avessero riconosciuta, Michael, scusate, Jack Nicholson e, insomma, il resto della famiglia di Shining, con il bimbo e con la moglie. Sappiamo tutti che fine fa, insomma, quel libro di Stephen King e poi, appunto, anche il film che è stato realizzato. A proposito di, insomma, lockdown e di scuole che sono chiuse, si parla anche di una riapertura e si parla di una riapertura fino a fine luglio, ma a questo punto ci domandiamo anche qualcosa e lo facciamo col prossimo meme, con Giovanni, di Aldo Giovanni Giacomo, che dice, cioè, si sta ribaltando la situazione, che cosa succede? Chiudono le scuole, ma poi ti dicono, riapriamo, magari da dopo Pasqua, fino a fine luglio, sostanzialmente andando a rovinare l'estate, che è l'unico periodo in cui puoi viaggiare, quindi devi mandare comunque i bimbi a scuola fino a fine luglio e cosa fai? Insomma, vai in vacanza senza i figli? Insomma, diventa una situazione problematica anche in virtù del fatto che i vaccini, se si concentrano soprattutto sugli anziani, sui medici e sui professori, beh, insomma, sono proprio le fasce che in linea di massima ci si aspetta che viaggino meno, dato che comunque è soprattutto il lavoro che ci sarà da fare, si concentrarà decisamente alto anche e soprattutto per questi settori, per questi, insomma, mestieri, chiamiamoli semplicemente così. Ma andiamo avanti, andiamo avanti, perché, insomma, sulla questione dei vaccini è un po' la notizia della settimana, un po' la notizia del mese, la sospensione di AstraZeneca, perché ci sono stati dei casi sospetti, degli effetti collaterali importanti anche a fronte di diversi decessi. E ovviamente il web si scatena da questo punto di vista, vediamolo pure il prossimo meme, perché ovviamente scattano gli esperti di vaccini. AstraZeneca, morti dopo il vaccino, l'abbiamo detto, una ventina su 25 milioni di somministrazioni, ecco che si scatenano gli esperti di vaccini ovunque, come riporta, insomma, questo celeberrimo meme utilizzato e strapolato da Toy Story. In più, ovviamente, come dicevo, il web si scatena, guardate anche il prossimo meme che cosa dice, dato che AstraZeneca è uno dei vaccini, ma poi c'è anche Pfizer, c'è anche Moderna, ecco che Pfizer rassicura, secondo il web, per ottobre sarà pronto il vaccino contro AstraZeneca, insomma, quasi a, in qualche modo, stemperare con i toni eccessivamente forse allarmistici utilizzati anche dai meme. A proposito di temi allarmistici e di scambi particolarmente forti, interessanti, che sono diventati virali, anche anch'essi. La guerra fredda a Stati Uniti Russi in realtà non è mai finita, forse è esagerato. Di sicuro adesso c'è un nuovo scambio di battute interessante, ed è quello tra, appunto, tra Joe Biden e Vladimir Putin. A Joe Biden è stato chiesto se Putin è un assassino, è un killer, Biden ha risposto di sì, dicendo pagherà per quello che ha fatto. Putin, dopo le accuse, augura a Biden buona salute, io assassino, chi lo dice sa di esserlo. Dal nostro punto di vista è un meme già questa cosa qui, fa già ridere così, anche perché poi, ovviamente, il web si è scatenato, citando un po' le varie filastroche che si dicono da piccoli, e allora Biden che dice chi lo dice sa di esserlo, scusate, Putin dice chi lo dice sa di esserlo, Biden dice non mi hai fatto niente faccia di serpente, quell'altro magari dice non mi hai fatto male faccia di maiale, eccetera, eccetera. Ovviamente il web è impietoso su ogni punto di vista, noi ci limitiamo a questo titolo, che dal nostro punto di vista, lo ripeto, fa già ridere così. L'altra notizia, andando un po' più sui mercati, che riguarda quanto deciso dalla Fed e quanto ha stemperato la Fed sul fronte del rendimento dei Treasury, e cioè, riesumiamo Sanremo da questo punto di vista, Amadeus che dice, Amadeus nei panni di Powell, che dice l'aumento dei rendimenti non è un problema, ma nell'ombra i Treasury si muovono e vanno verso nuovi record. Come a dire, va bene, se ci permetti di fare, di aumentare ancora il nostro valore, noi lo facciamo ed è esattamente quello che è accaduto. Tutto questo, insomma, queste notizie ovviamente si stanno svolgendo, anzi approfittiamo di Sanremo perché oramai, a proposito di tormentoni virali, la canzone più virale che c'è è quella della coppia con la pesce di Martino, che però, insomma, sono dei nomi nuovi e che probabilmente tenderemo a dimenticarci, come spesso è accaduto durante Sanremo. E allora, eccoci qua, siamo tutti Leonardo Di Capra, magari tra qualche mese, quando riconosci i cantanti di Musica Leggerissima, il tormentone di Sanremo. E che cosa diremo? Diremo, è coso, è coso di coso, coso di pesce, insomma, quello di Sanremo. Evidentemente potrebbe andare esattamente così. Come avrete capito, è una settimana in cui le notizie non buone in qualche modo sono tante, dalla sospensione dei vaccini ai decessi, sicuramente, che si sarebbero potuti evitare, forse. E ovviamente va la solidarietà, insomma, a chi ha perso i propri cari e per il lockdown che sta paralizzando l'attività economica di molti, molti, molti negozi, insomma, molti commercianti. E allora riassumiamo con una vecchia vignetta di Altan, che è sempre efficace ed è sempre attuale. Peggio di così non possiamo andare, dai, ancora uno sforzo e ci riusciamo. Questo è Memeconomics, speriamo di avervi strappato almeno un sorriso in questi dieci minuti, attraverso questi dieci meme. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi e l'appuntamento è per la prossima puntata. Grazie per la visione!